Zibana, il dirigente o la persona che avrebbe detto al figlio che tanto la madre sarebbe morta lo stesso e parliamo della mancata ambulanza Roberto Del Lago, non merita un calcio nel posteriore a casa? Ma al dia del calcio nel posteriore, quello che io ho chiesto nella mia interrogazione rivolta alla Presidente dell'Assessore innanzitutto un'indagine conoscitiva urgente, ma non da fare domani, da fare ieri perché non è possibile che, io posso tollerare tutto, posso tollerare anche che un'operazione a un ginocchio anziché fra un mese sia fra un mese e mezzo, non posso tollerare che ci sia, non che un'ambulanza non venga che un'ambulanza giunga con 30 minuti in ritardo, ha maggior ragione quando in caso di emergenza l'emergenza non la possiamo programmare, nessuno in grado di immaginare quando avrà bisogno di un'automedica di un'ambulanza o di un pronto soccorso, perciò una giunta regionale che vuole fare cassa che vuole fare risparmiare sulla pelle dei cittadini una giunta regionale che è corresponsabile di quegli incidenti che sono annunciati, se non ci sono ambulanze anche un bambino sa che quando la si chiama non c'è, un bambino è in grado perciò di modificare questo piano di sicurezza perciò noi chiediamo che una giunta regionale che ha dato le linee guida per questo piano di sicurezza si riveda come le altre amministrazioni regionali in tutta Italia, noi chiediamo perciò dove c'erano 5 ambulanze e la giunta regionale vuole metterne 3, noi diciamo che anziché 5 se ne mettono 6 dove ci sono due pronti soccorsi e la giunta regionale vuole che ce ne sia uno, noi diciamo che ce ne sia uno in più non si può, non si deve scherzare sulla sicurezza, non è possibile Possibile che su una spesa della regione, sulla sanità non proprio piccola, non riusciamo ad avere qualche ambulanza in più non è che dovremmo chiamare gli sloveni per avere un'ambulanza? Ci picchia, io da goriziano considero che abbiamo una convenzione anche con Nova Gorizia per quanto riguarda appunto nascita che peraltro siamo convenzionati ma non è assolutamente utilizzata, è una nota dolente, un tasto dolente invece ragionerei, noi oggi spendiamo 2 miliardi e 200 milioni circa per quanto riguarda la sanità abbiamo 24 mila persone che lavorano all'interno della sanità è davvero possibile che non si riescono a prendere su 24, ripeto, 24 mila persone che operano nel settore della sanità che non siamo in grado di assumere 100 medici che si possono dividere tra automediche e pronto soccorsi? Non è possibile, io credo che non soltanto non è possibile ma è obbligatorio è meglio, ripeto, chiudere una specialità e fare in modo semmai, se necessario, che un nostro cittadino vada a farsi operare a Udini, a Trieste, che vada a farsi operare a Verona, a Padova non possiamo tagliare sulla sicurezza, la sicurezza fa la differenza tra la vita e la morte un pronto soccorso, un'ambulanza giunta 10 minuti prima o 10 minuti dopo fa davvero la differenza tra le vite e la morte la giunta regionale è consapevole di ciò, la giunta regionale è perciò responsabile degli incidenti che senza dubbio avranno luogo nei prossimi mesi Marini, il dirigente o la persona che avrebbe detto al figlio che tanto la madre serve molto lo stesso e parliamo della mancata ambulanza doberto del lago, non merita un calcio nel posteriore e a casa? Ah beh, certamente, questa è una vicenda rispetto alla quale io non ho elementi ulteriori rispetto a quello che ho letto sui giornali leggendole sui giornali mi sembra una vicenda assolutamente allucinante che manchi un'ambulanza, che sia chiuso il pronto soccorso, che uno dica alla madre che sarebbe morta lo stesso mi sembra una vicenda, ripeto, assolutamente allucinante se, stando alle versioni dei giornali poi qualche volta le cose possono essere anche diverse però io voglio innanzitutto esprimere profonde condolianze alla famiglia e poi dire che la regione Friuli-Venezia-Giulia anche se, devo dire onestamente che l'assessore Telesca ha subito comunicato che si farà un'inchiesta molto severa da parte della direzione regionale della sanità sulla vicenda che la regione Friuli-Venezia-Giulia, dinanzi a questo, come altri casi, un altro caso recente di un mese fa si è verificato a Trieste, poi seguito da questa vicenda dello scambio delle salme beh, la regione Friuli-Venezia-Giulia deve assolutamente prendere una posizione decisa, precisa su questo ma soprattutto deve chiarire per quanto la riguarda, cioè per quanto riguarda l'aspetto amministrativo, i fatti e poi sarà evidentemente la magistratura a chiarire se ci sono anche degli aspetti di carattere penale Possibile che su una spesa della regione, sulla sanità, non proprio piccola, non riusciamo ad avere qualche ambulanza in più non è che dovremmo chiamare gli sloveni per avere un'ambulanza? Purtroppo il nostro sistema sanitario, che era un sistema di assoluta eccellenza, sta vivendo un momento di crisi la stessa Slovenia, me lo diceva sul piano dell'emergenza, rischia di superarci Noi buttiamo via i soldi per cose molto spesso inutili e rischiamo di trascurare servizi che per il cittadino sono essenziali Io ricordo solo una cosa, che per la sanità la regione spende metà del suo bilancio annuale e non è pensabile che spedendo metà del suo bilancio annuale vengano forniti servizi che non siano di assoluta eccellenza Noi fino a poco tempo fa, vicende simili, eravamo abituati con tutto il rispetto ma a leggere dai giornali riguardanti il profondo sud Italia Oggi bisogna dire che ci stiamo da questo punto di vista profondamente meridionalizzando Senta Marini, quanto ha a cuore il futuro politico di Manuela Declic? Mi sorprende con questa domanda, ce l'ho come fosse, non voglio dire mia moglie perché ha sposato un figlio e non voglio che il marito mi cora dietro prendendomi a calci nel sedere Diciamo che ce l'ho a cuore come quello di una figlia Prova ne sia che con lei, ho intenzione di fare una copiata di assoluto, assolutamente di ferro alle elezioni comunali Una copiata Marini-Declic con la doppia preferenza perché voi sapete che adesso se si votano un uomo o una donna si può dare la doppia preferenza Analogamente a quanto in tempi ormai lontani, era il 1992 quando vigeva la regola delle più preferenze Feci con Renzo Codarin una corsa nell'allora democrazia cristiana che stupì tutto il partito Perché arrivamo a, correndo insieme, arrivamo a 17 voti di differenza Una cosa incredibile 1197 preferenze le prese io 1180 le prese lui Con una corsa di assoluta lealtà, di assoluta forza, di assoluta dedizione Con Manuela ho assolutamente intenzione di fare lo stesso